Perché il Montello si chiama così? Praticamente questa zona è più alta di una collina, però è più bassa di una montagna. Esatto. Sì, per me le dici. Perché è famosa la patata del Montello? Perché il terreno dove viene coltivata è ricco di ossido di ferro. La patata qui non è solo rossa, le varietà riconosciute dal consorzio sono ben nove. Molto bene. Sì, per i 10, studiare a me. Quante sono le grotte naturali del Montello? Quanti? 100. E la più famosa si chiama Ravarangrando. Bene. Chi erano i bismenti? Bismenti significa due volte niente. Ed erano i residenti dei 13 paesi montelliani che sopravvivevano grazie alla legna che rubavano i boschi. Lo facevano con l'aiuto di carretti come questo, che venivano trainati a mano. Bravo. Chi sa dirmi cos'è il re Cantina? Il re Cantina è il vitigno principe di Montello. Terra di occhi nerozzi. Che tu però non puoi ancora bere perché sei un bambino. Come non posso bere maestra? Ma sono canale canale. Ma questa è una gag. Ma sai che non ti avevo proprio riconosciuto? Io invece sì, tu sei Glowfox. Vabbè il tuo creator. Sei viva. Paragena. Paragena.